Sono Orazio Carmantini, vengo dalla provincia di Varese, in Lombardia. Cercando su internet mi sono imbattuto nel dottor Palmas. Ho cominciato a guardare i video e diciamo che mi ha convinto abbastanza. Sembrava una persona, poi alla fine ho appurato che lo è davvero, una persona seria, una persona, un professionista che è un po' strano da dire, però a differenza di altri cerca di venire incontro al paziente, cerca invece di pensare solo al lucro, sicuramente anche lui avrà i suoi guadagni per carità, però rispetto a tanti altri prima di lui con il quale io ho avuto modo di parlare, è quello che mi è sembrato più ben disposto verso i pazienti, viene più incontro. E da lì poi chiaramente ho chiamato, ho parlato con la segreteria e da lì poi insomma tutto viene. La cosa che mi ha dato fiducia nel dottor Palmas è proprio la tendenza alla risoluzione delle cose, non al temporeggiare o aggiustiamo questo, aggiustiamo quello, poi si rompe quell'altro, aggiustiamo quell'altro. Quello che ho visto dal dottor Palmas è che si inizia e si finisce, cioè è un percorso che può essere a volte anche lungo, però inizi e finisci, non c'è questa cosa che devi andare dal dentista per anni. Io per fare questo lavoro in Italia, l'ultimo dentista che ho sentito, ci volevano 4 anni, io qua l'ho risolto in meno di un anno e ho avuto la stessa cosa, la migliore, perché la qualità che ho avuto qua io in Italia non avrei potuto averla, non me la potevo permettere proprio. Per cui insomma meglio qui, sono veramente contento e ho fatto una bella scelta e lo confermo. Per cui avere di nuovo i molari è una cosa bellissima e strana nello stesso tempo, per cui ci sto facendo l'abitudine, è una bella sensazione poter masticare un'altra volta come quando avevo 20 anni. Quindi già hai riuscito a mangiare un po' più? Assolutamente sì, io ho già mangiato la bistecca, le patatine e tutto il re, ho smesso di mangiare purè, subito, la sera stesso. Per cui sono molto contento del risultato. Diciamo che anzi prima di venire qua, chiaramente anche io ho chiesto no, mi sono informato, ho chiesto dei consigli, ho chiesto, ho parlato con persone e tutti mi hanno detto la stessa cosa, vai tranquillo, non ti preoccupare, non è una fregatura, ma neanche da lontano anzi. E quindi io dico la stessa cosa a chiunque incontri o abbia la possibilità di conoscere e abbia la necessità di avere cure, che in Italia non si può permettere. Tranquillamente chiami, chiedi informazioni, io qua ho incontrato persone serie, persone che mi hanno aiutato e che sono anche felice di aver conosciuto. Per cui senza indugio, venite se dovete venire, chiedete tutte le informazioni, ve le daranno, non ci sono problemi e abbiate fiducia, le cose si risolvono. Io adesso sorrido, adesso io parlo con le persone e sorrido, prima no, non lo facevo mai e se lo facevo mi vergognavo, mettevo la mano davanti o abbassavo la testa. Io oggi sorrido e questo penso che sia la cosa più, a parte la contentezza di poter masticare, ma anche la sicurezza di poter sorridere senza nessun problema. Erano anni che io non sorridevo e sono contento. Grazie per la visione!